io non vedo tu non parli lui non sente ci ritroviamo nel fine carriera di un grandissimo regista del cinema italiano che è mario camerini un nome davvero fantastico che ha attraversato l'intera storia del nostro cinema dal muto agli anni 70 e finendo per realizzare davvero alcuni dei film più 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 gloriosi sitino a quel periodo lì e in particolare lui era stato uno che era riuscito proprio in maniera fantastica a impiegare le scenografie con consapevolezza infatti lui si descrive come come un autore conscio di tutti gli elementi del linguaggio telecinema e quindi noi siamo andati a vedere un attimo come come si fosse interrelazionato con le scenografie appunto e vengono in mente in particolare due film che hanno segnato l'immaginario collettivo italiano che sono il primo grandi magazzini che è un film con vittorio desica fra i film più illustri del cosiddetto cinema dei telefoni bianchi dal periodo fascista in cui ti accorgi che le scenografie di gastone medin il più illustre scenografo di quei tempi proprio servivano a rendere questo grande sogno fantastico che veniva servito al popolo come un miraggio irraggiungibile per le masse quei grandi magazzini che sono il grande sogno costruito da da gastone medin diventeranno un oggetto a portata di mano solo negli anni sessanta il secondo film invece di cui voglio parlare è crimen un film in cui mario camerini che mette insieme il top del top della commedia all'italiana cioè sordi vittorio gasman franca valeri e manfredi e su una sceneggiatura di rodolfo sonego e con la produzione di dino de laurentis realizza un film con scenografie di piero gerardi in cui proprio la scenografia assume un valore di pura narrazione il film di cui invece ci occupiamo noi oggi è proprio il remake di quel film un film che viene realizzato di nuovo dallo stesso regista che l'aveva portato sullo schermo la prima volta e quindi è chiaro che questa peculiarità diventa proprio la cartina tornatole per accorgerci di come sia cambiato nel tempo l'approccio di questo regista alla scenografia infatti camerini stava già si stava avviando a fine carriera ci accorgiamo che è cambiato proprio un mondo incredibile fra quando siamo partiti e questa fine in cui è cambiato il cinema è cambiata la società e sono cambiati gli attori anche in questo film lui 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 utilizzando le scenografie di dante ferretti che tende proprio a evidenziarle al minimo sindacale sono proprio delle scenografie che sono lontano moltissimo da quello che ferretti ci farà vedere poi cioè questa sua attenzione maniacale al particolare al dettaglio al costruire una scenografia in funzione di movimenti di macchina o in funzione di 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 della resa di specifici elementi di racconto qui proprio la scenografia fa semplicemente da sfondo se vogliamo con una con una macchina da presa che si mantiene sui sui semplici campi medi me mentre su crimen camerini se cimentava con dei campi lunghi che che esaltavano l'ambiente e i tanti personaggi che che vi si muovevano e soprattutto riusciva a rendere anche più iconica l'interpretazione di grandi attori che in questo caso sono più dei mattatori c'è alighiero noschese gastone moschini enrico montesano sono degli attori qui a cui la macchina da presa si attacca cioè va molto vicino a scapito dello sfondo perché appunto che ci si aspetta una recitazione meno cinematografica in breve ecco quello che invito ad andare a vedere è fare un confronto fra le scenografie di ambientazione più comune come quella del commissariato di polizia da esempio contro gli ambienti più di lusso se vogliamo che è dove la fantasia di ferretti sicuramente si è potuta esprimere meglio forse il punto più rilevante ma brevissimo è un anticipo di sogno felliniano in cui ferretti ci fa vedere la macelleria super lusso che sogna da moglie di gastone moschini in questo film pensando di di fare a un certo punto molti soldi ecco se noi andiamo a vedere questa scena specifica e cerchiamo di vedere quanto gli elementi del lusso e del sogno vengano resi con estremo minimalismo e povertà ci accorgiamo proprio della della difficoltà di questo film che mette al minimo sindacale il lavoro di un grande scenografo con di inverso da sua straordinaria fantasia e per progetto scenografico